neanche ci avessi Alpacino lo so, lo so, ma lui sarà il nuovo Alpacino, l'Alpacino del teatro è lui, Antonio Coppola il nostro amico Antonio che ci è venuto a trovare non vedo però questa è una foto che per esempio mentre io vi ricordo faccia da cavallo stasera e domani alle 21 e poi la pomeridiana di domenica alle 18 alle 17 e 30 teatro Tirso De Molina qui mi innamorai artisticamente di lui, qui faceva il prete in Ciceruac ma non è quel prete che hai visto tu perché questo è un prete sapeva la faccia un po' troppo scansonata per la tragedia e qui credo che col grande Mauro Lorenzini, giudice Laner e qui è la parte in cui credo sia la prova, la generale questa in cui gli dici proprio lui ti chiede, questa anomalia si è ripetuta almeno 10 volte, guardi per esempio qui 339, 99 eccoci qui, grande Coppola quanto gli voglio bene a Coppola eccola la coppia d'oro del cinema del teatro del teatro quale c'è? qui c'è e qui siamo proprio in scena quindi Coppola avremo modo di rivederlo in una presentazione ufficiale il 25 di maggio in Campidoglio per l'opera ultima missione destinazione inferno che ricordo essere un'opera di denuncia assoluta contro il crimine più grande che è quello della pedofilia ma prima ci tengo in modo particolare perché è bella 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 questa commedia Lilli Scintilla affermata e popolare conduttrice televisiva per un disguido tecnico commenta malamente nel TG Zerale un servizio sul comico Leo Paglia definendolo un attore fallito e con la faccia da cavallo la gaffa ripetuta più volte da striscia alla notizia indispettisce l'interessato che pretende le pubbliche scuse ed una sorta di risarcimento Lilli allora decide di farsi aiutare dal suo amante un noto politico di nome Gino Bassino che però avendola vista su una rivista di gossip tra le braccia di un facoltoso industriale prianzolo rifiuta seccamente la proposta e rompe i rapporti con la donna ultima e unica possibilità per Lilli di liberarsi di Leo è quella di recitare con lui in uno spettacolo creato da lui appositamente questa è la trama la nota che introduce e presenta faccia da cavallo ricordo Nino Taranto Sabrina Crocco di Sergio Iovan con la regia di Nino Taranto e soprattutto con Sara Dami Antonio Coppola e Angelo Grieco e Angelina Novak questa sera e domani alle 21 poi domenica alle 17.30 per la pomeridiana al teatro Tirso De Molina in via Tirso 89 numero di telefono 06 8411 827 ripeto 06 84 11 827 è una commedia che per due ore vi distrarrà da tutti i brutti e cattivi pensieri e soprattutto vi darà sempre più modo di apprezzare il teatro quello col carattere maiuscolo e con la passione del palcoscenico io ti ringrazio per la tua disponibilità ti ringrazio su 500 sì sì no ma soprattutto per la bravura perché stare in trasmissione con te è veramente facile e divertente Bobbo che dobbiamo fare con Coppola adesso scrive Bobbo Bobbo ha scritto qui delle cose il tuo sogno diventare quella che sono brava che brava e come potresti perché dovresti perché dovresti aspirare ad altro amici da guardare ma perché dovresti cambiare perché dovresti cambiare io ti auguro tanta fortuna grazie spero davvero un giorno vicinissimo di poter lavorare con te grazie mi stai facendo sudare le mani no resta qui resta qui con noi